Allora, passiamo al prossimo tema all'ordine del giorno, che recca la discussione dei disegni di legge di ratifica numero 3086A, 3766, 3768, 3867A, 3940, 3943 e 3944. Avverto che lo schema recante alla ripartizione dei tempi di tali disegni di legge pubblicato in calcio al resoconto stenografico della seduta del 5 agosto 2016. Passiamo alla discussione del disegno di legge di ratifica 3086A, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. Allora, facoltà di intervenire il relatore, il deputato Alessio Taccodi. Prego, relatore. Grazie, Presidente. Colleghi, signor Sottosegretario, l'accordo che questa Assemblea è oggi chiamata a ratificare è rivolto a rafforzare la collaborazione tra Italia e Austria nel contrasto al criminalità organizzata, terrorismo, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di sostanze velenose e radioattive, migrazione illegale, traffico e tratta di persone, reati contro il patrimonio, reati economici e riciclaggio, criminalità informatica. L'accordo che sostituisce il precedente siglato a Vienna nel 1986 ha il fine di creare uno strumento giuridico per rafforzare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi e gli organi.